Noi oggi siamo qui a dire quello che sta dietro il pollo, animali torturati uccisi dopo 35-40 giorni in cui vengono imbottiti gli antibiotici, appesi a testa giù per le zampe e scorsati o trafitti con una lama che in tanti casi non va a confine e arrivano al resto, ovvero allo spiumaggio in cui sono ancora coscenti. Questo è il vostro pollo, sono milioni di animali torturati che mangiate stupendovi quando in altri paesi mangiano i cani fritti alla stessa maniera. Che differenza c'è tra un pollo e un cane? A parte che negli occhi di chi vede. Noi siamo un movimento animalista che si batte per i diritti dei più deboli e quindi si batte anche per i diritti di tutti gli animali. Siamo un gruppo, ci troviamo cani sciolti e ogni settimana andiamo in posti come questi per comunicare alle persone che la rivoluzione e l'indipendenza di ogni specie umana e non umana iniziano il piatto. Quello che avete nel piatto sono animali massacrati ogni giorno, più di 5.000 al secondo, massacrati ogni giorno per semplice gola perché mangiare animali non è necessario. I vegani e i vegetariani negli anni, nei centinaia d'anni hanno dimostrato di essere in salute e di essere capaci di vivere benissimo senza sfruttare e non uccidere animali. Questo posto che è approdato a Milano, aperto in Torino, Genova, a Napoli ha fallito, i Kentucky Fried Chicken, milioni e milioni di polli ogni giorno stipati in allevamenti lager, costretti a fare tutta la loro vita con luce artificiale, nelle proprie elezioni, in un ambiente insalubre, sono polli malati che prendono infezioni delle mirinarie, respiratori, bottiti di farmaci, urmoni per farli crescere in breve tempo. 40 giorni ed il pollo è pronto, sconzato, fritto, lo saldito è un'attività di diventare, non ce l'avano a fare a voi così forti, non ce l'avano a fare a voi, sconzato, sconzato, faccio a me, sconzato a me, sconzato a me, sconzato a me. Pensate, pensate, quando vi stupite, come ho detto prima, delle persone che mangiano i cani e qualcuno ha detto il pollo è buono, questa persona probabilmente non ha mai assaggiato un cane perché non lo sarebbe mai, questo è lo stesso principio, è lo stesso principio che utilizzavano quelli che dicevano che le persone con la pelle scura sentivano il dolore in maniera diversa, è lo stesso principio che utilizzavano quelli che dicevano che le donne avevano il cervello più piccolo, è lo stesso principio di chi nel corso della storia ha schiavizzato quanti un altro nel corso dei secoli. Il mangiare animali distrugge il pianeta per produrre un chilo di carne, ci vogliono 15 chili di cereali, c'è 15.500 litri di acqua e stiamo morendo, la gente muore di fame. Cos'è più importante di questa scelta per chi muore di fame, per il pianeta, per gli animali che soffrono, qual'è più importante di questa scelta? Tra 50 anni moriremo tutti, anche chi ci ha criticato!